Le autoclavi di classe B hanno un importante consumo di acqua, pertanto per poter ridurre i tempi di carico e scarico acqua e ridurre i costi relativi all'acquisto di acqua distillata o demineralizzata è possibile connettere alle nostre autoclavi i dispositivi Pura. Pura si interpone fra la connessione alla rete idrica e all'autoclave. Grazie a sistema osmotico l'acqua viene trattata ed immessa automaticamente all'interno del serbatoio dell'autoclave stessa. Le dimensioni di questo dispositivo sono molto contenute e per questo può essere alloggiato facilmente. Il costo di utilizzo è esiguo, infatti con una serie di filtri è possibile eseguire fino a 800 cicli circa. Pura non necessita di manutenzione e neppure di controlli periodici. La sostituzione dei filtri è semplice e rapida. Pura è disponibile in tre versioni. Articolo 247 S2. Dispositivo modello Pura, realizzato per alimentare un'autoclave modello Europa Evo, Europa B Evo 24. Articolo 2039 S. Dispositivo modello Pura Plus, realizzato per alimentare un'autoclave modello Alia B, Aura B, Alia B24, Aura B24. Articolo 245 S2. Dispositivo modello Pura Duo, realizzato per alimentare contemporaneamente due autoclavi, tutti i modelli.